bentornati ragazzi e ragazzi in questo nuovo episodio di Stronghold Crusader andiamo subito a vedere che cosa abbiamo affrontato nella sfida precedente la pianura la 23esima sfida abbiamo affrontato ben 5 rattoni maledetti e li abbiamo surclassati li abbiamo proprio annichiliti se ve la siete persa mi raccomando iscrivetevi al canale commentate mettete un like e attivate la campanellina e andate ovviamente a vedere il video precedente numero 23 di questa playlist mentre in questo episodio noi andremo al ventiquattresimo la ventiquattresima sfida morte fra le dune e affronteremo i quattro sultani Abdul Ahmed Mustafa e Hashim in un 1 contro 4 dove noi siamo in mezzo però abbiamo l'unica notizia positiva è che abbiamo 10.000 di risorse economiche così come tutti e quattro i sultani hanno 10.000 quindi abbiamo il tempo abbiamo il dovere di crearci subito un esercito e dobbiamo subito uccidere uno dei sultani oppure crearci subito una difesa e poi attaccare con calma 1 2 3 4 io poterei più sulla seconda perché non mi piace subito attaccare uno velocemente e poi perché di solito così non funziona ok quindi prima di partire con la nuova sfida io vi mando la sigla ok sempre il solito slide e trucchetto della velocità di giuoco chissà se questa mappa sarà bella grossa subito subito qui poi ci creiamo cerchiamo di non stare mai fermi intanto ci creiamo questi qui 1 2 3 il mercato perché il mercato è importante le armerie ce ne facciamo 2 ci facciamo abbastanza pietra da fare 1 qui 1 qui è un altro serve della pietra porca miseria mi ha fatto prendere un acqua una goccia ok è un altro qui poi ci facciamo le braci dappertutto le braci dappertutto le braci dappertutto 1 2 3 4 scala 2 3 4 le scale compra mo gli archi l'armeria è stracolma mio signore in attesa di ordini cosa volete? vado potete contare su di noi ci muoviamo ci muoviamo facciamo la caserma di legno 1,2,3 e 4 la gilda in attesa di ordini in attesa di ordini le rimettiamo qui tutti i genieri vostra grazie che cosa possiamo fare? agli strumenti d'assedio 1,2,3 vostra grazie vostra grazie agli strumenti d'assedio agli strumenti d'assedio in attesa di ordini possiamo vendere questa cavolate della grecia il ferro lo vendiamo creiamo dei nuovi qui sì, immediatamente in attesa di ordini dobbiamo creare una bella difesa compriamo un po' di... mercanzie insufficienti arciari pronti vado siamo sotto attacco servono altre reclute, sire il mio arco è vostro queste truppe ce abbiamo? oh, temo benissimo a truppe io direi che già li possiamo uccidere visto quanto è veloce dove andiamo? sempre pronto andiamo in attesa di ordini servono altre reclute, sire mio signore cosa volete? ci muoviamo guarda qua sta salendo qua ancora non lo uccido il castello? no, non è circondato il castello è circondato no, è circondato ok siamo in mezzo a questi qui però diciamo che ce la stiamo cavando bene tu, te l'altro dov'è? ah, eccolo ok allora, visto che non c'è niente per produrre cibo però abbiamo tante, tante buste in attesa di ordini immediatamente io direi che possiamo fare una bella cosa però così non c'è un subito quindi facciamo una bella due, tre e attaccheremo tutti con i lancieri i lancieri e gli arcieri dai in attesa di ordini a questi soldi non li stanno proprio spendendo è proprio degli studi vabbè ah, dobbiamo fare un portale altrimenti non possiamo uscire da una parte piccola annotazione in attesa di ordini sì io direi che questi possono già iniziare a randare un messaggio dal sultano il vento del deserto soffia potente in direzione delle due terre per questo Hashim è proprio l'ultimo siamo sotto attacco io direi arcieri pronti ci muoviamo il mio arco è vostro immediatamente cosa ci aspetta? allora voi non dovete più far togliere niente potete contare su di noi sarete voi ad uscire ad essere il mio attacco diciamo mamma mia diteci cosa fare sì mio signore facciamo la birria un messaggio dal sultano oggi il cielo non è stato favorevole al sultano ma è normale ma che cosa deve essere favorevole ci muoviamo che se ce n'è proprio voi potete contare su di noi il tuo potere sta aumentando un messaggio dal sultano il vento del deserto soffia potente in direzione delle tue terre che si capace potete contare su di noi potete contare su di noi nessun problema cosa volete? immediatamente guarda a me ne mandano tre ma che cosa è che deve fare? un messaggio dal sultano oggi il cielo non è stato favorevole al sultano ci muoviamo facile in attesa un messaggio dal sultano la puzza nell'oasi del sultano si sta inaridendo diteci cosa sarà piuttosto una passeggiata un messaggio dal sultano un messaggio dal sultano i rami dell'olivo piangono la perdita del sultano potete contare su di noi potete contare su di noi andiamo il mio arco è vostro ecce pronte eccellente agli strumenti d'assedio mio signore pronti a tirare cosa volete? va spuntare prendere la mira ci muoviamo immediatamente frecce pronte pronti a tirare spuntare prendere la mira frecce pronte allora sai che faccio? uh ah vabbè ma ci sono le taverne è una rispatta in attesa di ordini un messaggio dal sultano la puzza nell'oasi del sultano si sta inaridendo allora devono solo prendere un pezzo di legno mercanzie insufficienti potete contare su di noi servono altre reclute sire dove andiamo? eh vabbè ma non è giusto sempre pronto sarà piuttosto difficile cosa ci aspetta? nessun problema dobbiamo per forti sfidervi potete contare su di noi servono più armi sire bravo più forte diteci cosa fare facile un messaggio dal sultano il vento del deserto soffio potente in direzione delle tue palle si 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 un lento un lento un lento un lento un lento arciari pronti a tirare nessun problema il mio arco è vostro sei il terzo silenzio di potenza oh ma se io vengo qua porca miseria ma tu te li crei ancora e soltanto c'è un lento dove andiamo? potete contare su di noi servono più armi sire sempre pronto sarà una passione sempre nessun problema faccio c'è una uglidale eroico mio signore cosa volete? sarà una passeggiata morca miseria mi hanno ucciso tutti mercanzia insufficiente un messaggio dal sultano la colomba si riposa il falcone prende il volo oh questo sta morendo voglio capire che sta morendo in attesa di ordini non si riposa non si riposa A presto. è stato uccidendo a quello è stato uccidendo una gialla con ampi il nord è sotto a straccio non mi viene